La piccola grande proposta che Cittadinanza Attiva fa di modifica della Costituzione sul tema della tutela della salute è volta a rendere esigibile, come chiede l'articolo 3 della Costituzione, il diritto alla salute. Il tema è importantissimo, l'Italia è tra i migliori paesi al mondo, lo dicono le statistiche internazionali, in termini di tutela media della salute, ma come il pollo di Trilussa c'è chi ha una tutela altissima e chi ha una tutela pessima e questa differenza fra persone spesso ricalca i confini regionali, qualche volta intra-regionali. E allora la proposta che viene fatta da Cittadinanza Attiva è importante perché costruisce un chiodo all'interno dell'impianto costituzionale che possa far sì che questa esigibilità, questa uguaglianza effettiva, che lo Stato possa, diciamocela tutta, far sì che i livelli essenziali di servizio nel campo della salute siano effettivamente di tutti e non solo di quel pollo medio di Trilussa che pure sta nelle statistiche.